Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile serata. Amore mio, ho aspettato tanto per vederti, ma non è servito a niente, niente. Nemmeno una parola, l'accenno di un saluto, ti dico arrivederci, amore mio. Nascondendo la malinconia, sotto l'ombra di un sorriso. Cosa non darei per stringerti a me? Cosa non farei perché... A presentazione era l mastering. Cosa non farei per scrive, ma non farei per servo, non farei per servo. Cosa non farei perché li fa sempre più facilmente. Grazie a tutti.